la devisun nasce da un progetto voluto fortemente da un caro amico e collega avvocato luca leonardo di paris che ha fatto una grande scuola di avvocature di notariato ed ha una importante esperienza nel mondo della blockchain e ha pensato a un utilizzo non finanziario della blockchain. Questo progetto nasce proprio da questa esigenza cioè quella di introdurre un elemento di certezza nel mondo digitale relativo alle firme elettroniche parliamo quindi di firme elettroniche qualificate o meglio in questo caso firme elettroniche caratterizzate da un particolare livello di sicurezza e che ribalta quello che è il principio generale stabilito dalle norme che noi abbiamo già a disposizione cioè non c'è più un organo centrale appunto qualificato che certifica la validità di quella determinata firma ma c'è una rete di miner che appunto chiamiamo una blockchain che ci consente di verificare in qualunque momento noi singoli utenti in una logica p2p se effettivamente chi ha firmato in quel giorno a quell'ora è effettivamente il soggetto che doveva firmare quella determinata operazione che può essere un conto con l'apertura di un conto corrente un contratto e via dicendo il motto diciamo di devi su è fondamentalmente do not trust but verify è esattamente quello su cui si basa poi bitcoin nessuno può diciamo fidarsi di un organo centrale perché una determinata firma sia stata applicata o meno ma può verificare in qualunque momento e questo qualunque momento è tecnicamente per sempre si tratta sostanzialmente di una video firma dove l'utente ci mette la faccia ci mette la faccia legge un codice alfanumerico che corrisponde al codice esce nel quale poi verrà applicato diciamo quella determinata firma un aspetto estremamente interessante è legato anche alle soluzioni che sono state applicate in questa video firma innanzitutto si eliminano i rischi di fake in modo da evitare che ci possono essere delle sostituzioni di persona nella fase della firma e poi nel momento in cui si legge questo codice univoco si dà certezza temporale al momento in cui quella persona ha firmato innanzitutto è per sempre in secondo luogo può verificare da solo in qualunque momento diciamo quella determinata sottoscrizione e la cosa più interessante è che video firma quindi superando i concetti di centralizzazione e entrando nel mondo della decentralizzazione voleva offrire a tutto il mondo delle soluzioni certe veloci rapide accessibili a chiunque in poco tempo rivolgersi a sardegna ricerche non è solo un discorso di carattere finanziario è un discorso anche e soprattutto di carattere logistico che fa parte di un ecosistema come quello regionale che noi andiamo a ripetere nel tempo ma che mi rendo conto molto spesso è poco conosciuto fuori il compito secondo me dei professionisti ma anche di queste aziende è cercare di distribuire conoscenze riguardo a quelle che sono le potenzialità di questa regione non solo in termini di competenza tecnica ma anche di risorse, anche risorse economiche perché no quello che sta accadendo un po' forse anche grazie o per colpa del covid è che il lavoro si è chiaramente decentralizzato e gli stessi attori, fondatori di questa nuova start up sono entusiasti dell'idea di poter spostare le loro radici qua io sono insieme a un altro mio socio, l'unico sardo diciamo in società, una società composta da appunto oltre Luca Leonardo Di Paris, Giorgio Mazzoli, Stefano Capaccioli, Paolo Burlone e appunto Mauro Pili che è l'altro sardo oltre me e tutti i bravissimi professionisti, avvocati, commercialisti e tecnologi come Mauro che hanno contribuito diciamo con entusiasmo a creare questo progetto e speriamo a portarle in maniera definitiva e stabile in Sardegna il nostro problema nel futuro sarà quello di garantire un'identità in un mondo digitalizzato, sempre più digitalizzato immaginiamoci cosa potrebbe accadere nel mondo del metaverso credo veramente che questo sia un progetto dal quale possono gemmare veramente tante soluzioni non è semplicemente una firma ma è un'identità poter garantire un'identità deve anche però voler dire poter garantire anche una riservatezza il fatto stesso che noi non conserviamo nulla ma diamo solo un tool che consente agli utenti di portarsi questo tool in giro e andare a sottoscrivere attraverso questo tool creando delle cerchie di persone ecco ti dà l'idea di quanto poi in futuro questa sorta di strumento di identità digitale possa essere in un'ottica di privacy by design perché è stato concepito proprio per tutelare al massimo la riservatezza e appunto la privacy delle persone possa essere veramente fuoriero di nuove iniziative di nuove soluzioni Grazie a tutti